Castra ottesi 600.000 euro dalla regione con cui il comune intende proseguire la riqualificazione del lungo lago. Schilpario festeggiata presso la casa di riposo della fondazione Bartolomea Spada i 103 anni della signora Carolina Novelli di Azzone. Gandino muove i suoi primi passi, l'associazione culturale Lumen, il 19 gennaio un incontro per parlare della crisi della politica. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antena 2. A Castro c'è attesa per un contributo di circa 600.000 euro previsto dal protocollo del Sebino per la promozione turistica. Con le risorse si punta a una ulteriore riqualificazione del lungo lago. I contributi sostanzialmente dovrebbero essere di carattere regionale e fanno riferimento al famoso protocollo del Sebino, cioè un finanziamento che a seguito di Flotting Peers, l'iniziativa che ha avuto un enorme successo due anni fa, ormai 2016. La regione Lombardia ha stabilito di riconoscere per la grande collaborazione che c'è stata fra i comuni, fra tutti i comuni del lago, ricordiamoci che il lago è diviso Sponda Bergamasca, Sponda Bresciana, quindi si è riusciti ad andare oltre questi campanilismi, chiamiamoli così. Un contributo aggiuntivo di circa 10 milioni che poi viene ripartito in circa 600 mila euro a comune, sono 16, per realizzare delle opere che valorizzino ulteriormente le presenze turistiche sul territorio. Per quanto riguarda Castro abbiamo in mente alcune iniziative, la più importante è la realizzazione in zona, diciamo, in barcadero, area feste, la chiamiamo così, sarebbe la parte qui, insomma, prospicente il lago, un collegamento pedonale che metta in sicurezza il percorso delle persone che vogliono venire a fare un giro a Castro. Adesso praticamente questo collegamento avviene fra un parcheggio delle macchine, insomma, è molto impiccato, in questo modo andremo a rendere più fluido il passaggio e anche più sicuro. Poi un'altra cosa che dovrebbe favorire, diciamo, l'incremento turistico è un passaggio pedonale, questo nella parte, diciamo, di collegamento fra il lago, la parte bassa del paese e la parte alta, una passerella pedonale che anche lì consenta di togliersi dalla strada, di poter camminare in sicurezza e qualche altro lavoro di questa natura. Dalle ultime notizie informazioni che ho, sembra che la giunta regionale lo porti in approvazione fra questa settimana e la prossima, quindi siamo in fiduciosa attesa. Parliamo di un importo di circa? L'importo, allora, è di circa 600 mila euro che ovviamente deve essere ripartito, deve essere compartecipato chiaramente, la regione del 50, l'alto 50 lo deve recuperare il comune e per quanto riguarda l'opera maggiore, diciamo, che prevediamo di fare è attorno ai 400 mila euro. Un'altra delle iniziative, sempre in ordine al miglioramento del lungolago, della fruibilità, riguarda, diciamo, così la parte, come dire, a ovest del lungolago, il lungolago inizia qui all'entrata del paese dove confiniamo anche con la Lucchini, c'è un'altra parte di lungolago dove ci sono due, noi le chiamiamo rotonde, sono sostanzialmente due penisole, diciamo così, a lago, che avevamo così sistemato più di dieci anni fa e hanno bisogno di una risistemazione. Rispetto a questa cosa abbiamo inoltrato tramite l'autorità di Bacino del lago di Zeo, Moro e Endine, un progetto dell'importo di circa 130 mila euro che prevederebbe sostanzialmente un miglioramento, insomma, si lavora soprattutto sulla veste, diciamo, di questi spazi, lacustri, diciamo, rifacendo la pavimentazione, l'arredo urbano e quant'altro. Rispetto a questa cosa avremo il via libera, dovremmo averlo, diciamo, verso l'estate prossima, perché la procedura è questa, abbiamo presentato il tutto che dovrà essere poi approvato dalla regione tramite l'autorità di Bacino. Oggi presso la casa di riposo della fondazione Bartolomea Spada a Schilpario è stata festeggiata Carolina Novelli che ha raggiunto il suo centotraesimo compleanno. La donna originaria di azione della sua vita ricorda soprattutto il lavoro e le fatiche. Complimenti per il suo compleanno. Grazie, grazie, grazie. Come hai fatto a arrivare a 103 anni? Eh? Poi non so, un giorno sbagliato, un giorno sbagliato e sono arrivata. Cosa ha fatto nella vita, signora? Che lavoro ha fatto? Faccevo la compradina. Carolina, quando... Ho comprato non so quanti signori, quanti. Carolina, con la gerla dove andavi? L'iazzone, con la gerla dove andavi? Col gerlino andavi... Col gerlino, a Pustadero, per Pustadero. Certo, e ti ricordi quando facevi le pareti di lino? Quando? Il lino. Eh, il lino. Dopo mi andavi a farlo vedere. Dov'è che lo facevate l'olio? Con la senenza, si andava sul padio con la senenza e là lo schiacciavano. Al molino? E gli andavano le schiacche di olio. E l'olio poi cosa ne facevi? Oh, quanto ne ho passato. Ma con l'olio poi? Cosa ne facevi? Si condivano le insalate, si faceva anche arrosto. Ah, andavate andavate a piedi? Come grasso, grasso. Ma ascolta, veniva a Schilpario, venivi a piedi? Dazzone, venivi qua a piedi o col carrettino? Mi sembra di sì, col gerbo. Col gerbo a piedi? A piedi? Sì, a piedi. Cavolo, allora è per quello che sei rimasta, se sei arrivata a 103 anni e hai fatto tutto quello sport. Ma piccolina. Eri piccolina? Oh, ho lavorato io. Del disastro del gleno, ti ricordi? Oh, ero lì fuori dalla chiesa, tutta la gente davanti alla chiesa dicevano alla gente, guardate che viene il diluvio. Eri dice, davanti il minore, viene il diluvio. E tutti correvano a guardare. Sul serato era un pazionetto, per farmi vedere che eravamo là. Tu aspettavi il tuo papà? No. E ecco, per aspettare il mio papà. Come si chiamava? Si spiegano. I figli, sono la cosa più bella. C'è un ricordo, quello dei più belli, sono i figli che hanno dato soddisfazione. Ci sono messi a posto bene, l'altro si sono messi a posto per il papà che andava a stupare, a fare il ferro. E facciamo tanti auguri alla signora Carolina Novelli e soprattutto ci complimentiamo con lei. Ora ci occupiamo di salute all'ospedale Papa Giovanni XXIII. È iniziata la distribuzione di un farmaco con cui rallentare moderatamente la degenerazione motoria causata dalla SLA, sclerosi laterale amiotrofica. Un farmaco indicato per le persone in cui la comparsa della malattia non ha superato i due anni. Allora, dopo 25 anni siamo di nuovo impegnati a garantire ai pazienti colpiti da questa grave malattia neurologica, la sclerosi laterale amiotrofica, a garantire a questi pazienti la possibilità di una cura nuova. La cura colone da ravone è indubbiamente una novità che si aggiunge al riluzzolo e che può, per i pazienti con malattie in fase iniziale, essere una concreta speranza di rallentare l'evoluzione di questa malattia. È una cura impegnativa perché la somministrazione avviene e richiede l'accesso venoso, la somministrazione venosa per dieci giorni al mese. Vita natural durante. Senz'altro oggi per noi anche dell'associazione Aisla è una tappa importante perché lavoriamo sul territorio di Bergamo da 20 anni e poco alla volta abbiamo creato questa collaborazione con il gruppo Bergamo Sla 95 diretto dal dottor Bonito e penso che insieme siamo arrivati a questo risultato di essere tra i primi in Italia a poter somministrare questo nuovo farmaco, le da ravone, che si è visto da risultati positivi nei pazienti nelle prime fasi di sviluppo della malattia. È l'associazione che ha chiesto all'AIFA che il farmaco fosse riconosciuto a livello italiano per i pazienti Sla e quindi è una nostra soddisfazione essere qui oggi e sapere che già ci sono dei pazienti dal dicembre dell'anno scorso in terapia con questo farmaco. Non possiamo fare altro che augurarci che questa collaborazione continui e che questa rete che si è andata formando negli anni possa appunto continuare a dare i suoi risultati. Un evento importante che terremo a fine mese, esattamente il 28 gennaio qui in Bergamo, sarà la rappresentazione di una pièce teatrale scritta da una nostra malata, scritta con il solo movimento delle palpebre, perché con questo movimento la malata comanda un computer e ha scritto queste vicende sulla sua vita di giovane ammalata e madre di un ragazzo e sarà rappresentato da una compagnia di volontari e vi aspettiamo e speriamo di raccogliere con questo evento fondi per sostenere le nostre attività sempre qui nella provincia di Bergamo a favore dei nostri ammalati e questo si terrà al Cineteatro di Colognola il 28, domenica 28 alle ore 16. Questo per dire una tappa delle nostre attività. Poi abbiamo il progetto di collaborare per accompagnare alcuni ammalati là all'udienza papale a Roma il giorno 28 febbraio. Quindi andiamo avanti in questa nostra attività e soprattutto nella collaborazione con l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ora ci occupiamo di cultura. In Val Gandino muove i primi passi l'associazione culturale Lumen dopo il debutto del 9 novembre sulla scuola. Venerdì 19 gennaio è in programma un incontro dedicato alla crisi della politica. Recentemente a Gandino ha mosso i primi passi un nuovo gruppo, una nuova realtà di incontro, di coordinamento. Si chiama gruppo Lumen e muove i primi passi all'interno degli spazi della biblioteca parrocchiale di Gandino, la biblioteca Monsignor Francesco Caccia, che da diversi anni è oggetto di riordino e rivalorizzazione di un importante giacimento culturale che ha sede all'interno di quella realtà. Il gruppo viene promosso da un insieme di persone e si occupa sostanzialmente e si rivolge a quanti condividono le preoccupazioni e l'attenzione per il cambiamento epocale che viviamo e che vogliono partecipare alla riflessione comune su temi di storia e di attualità, di antropologia che riguardano il vissuto, il presente, la nostra contemporaneità, il nostro passato e il nostro futuro. Ecco, in qualche modo vi è il desiderio di ravvivare all'interno dei soci, delle persone che partecipano alle attività, agli incontri che vengono promossi, il proprio sentire di cittadino, insomma, il proprio essere una persona che beneficiaria di diritti e di fronte ai propri doveri, si assume l'onere di una cittadinanza che cerca di promuovere un miglioramento per sé e naturalmente anche per coloro che vivono insieme a noi. Lavorando all'interno di una biblioteca che è impropriamente chiamata parrocchiale, perché in realtà è la biblioteca del centro pastorale, parrocchiale e di tutta la valle, ci siamo accorti che non basta soltanto custodire i libri, ma occorre anche far cultura e per far cultura occorre creare delle occasioni di incontro per poter diffondere informazioni, diffondere anche ricordi del passato, diffondere anche le prospettive per il futuro. Noi siamo bombardati da un sacco di informazioni, la gente fa fatica a raccapezzarsi in mezzo a tutto quello che viene trasmesso dalle varie televisioni, dei giornali, eccetera. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare quelli che vorranno partecipare alle iniziative che organizzeremo a ragionare con la propria testa, a cercare di trovare un lume, ecco il titolo del nostro gruppo, il lumen, in mezzo a questo guazzabuglio, in mezzo a questa oscurità di informazioni. È per noi un punto fisso quello di dare l'informazione la più precisa possibile senza inquadrarla in schemi di partito. Noi siamo indipendenti da qualsiasi partito, vogliamo soltanto che chi ci ascolta conosca quello che sta succedendo, conosca una realtà che non sempre, por lo ripetere, lui riesce a cogliere. Come gruppo Lumen abbiamo già tenuto una conferenza il 9 di novembre che parlava del problema dell'educazione. Questa conferenza è stata tenuta dal professor Giovanni Cominelli, il quale ci ha spiegato e introdotto nel mondo della scuola facendo capire appunto tutti i problemi che circolano intorno a questo grosso problema. Mentre invece la prossima conferenza sarà il 19 di gennaio presso l'auditorio Giovanni Macconi via Bettera a Gandino e parleremo di un tema molto attuale, cioè la crisi della politica e dei partiti, un tema molto sentito anche dei cittadini. Abbiamo invitato quattro consiglieri regionali come politici, ci sarà ancora il professor Giovanni Cominelli che farà una relazione storica iniziale e poi ci sarà un dibattito tra i politici e i cittadini che vorranno partecipare. Ci fermiamo per una breve interruzione tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antenna 2. Oggi a Clusone è stato celebrato il funerale di Giuseppe Poletti, da tutti conosciuto come Geppe, storico proprietario dell'osteria che porta il suo nome in Via Baldi. Giuseppe è morto martedì all'ospedale di Piario all'età di 89 anni. Appassionato di montagna e buona cucina, per anni aveva gestito con la moglie il roccolo a San Lucio e poi la capannuccia alla spessa. Nel 1974, sempre con la moglie, aveva aperto l'osteria da Geppe, diventata luogo di ritrovo di molte associazioni e ora gestita dalla figlia Lucia. E dal 9 al 25 febbraio si svolgono a Pyongyang, in Corea del Sud, i giochi olimpici invernali. La fiaccola olimpica, accesa in Grecia, è sbarcata in Corea il 1 novembre 2017 e nell'arco di 101 giorni ha percorso esattamente 2.018 chilometri, grazie a 7.500 tedofori. Un percorso affascinante e suggestivo che sta per coinvolgere anche la Valle Seriana. Fra i tedofori che hanno rappresentato l'Italia, grazie a una selezione promossa dal colosso dell'informatica Samsung che sostiene i giochi, c'era infatti lo scorso 7 gennaio il bergamasco Giorgio Scuri, 48 anni di Branzi. Giorgio Scuri per diversi anni ha vissuto in Valle Seriana, rivestendo il ruolo di allenatore dello Sciclub Radici, con i cui colori nel 2008 ha vinto la Coppa del Mondo Master di Slalom Gigante. La vittoria più bella di Giorgio è stata tuttavia contro una rara malattia invalidante, la mielite traversa acuta e per lui dopo la malattia camminare, rampicare e sciare sono diventate sfide da condividere a favore della Fondazione Aiuto e Ricerca Malattie Rare. Al rientro dalla Corea, il progetto di solidarietà di Giorgio Scuri ha immediatamente contagiato la Valle Seriana e in particolare Promoserio e il distretto delle Cinque Terre della Val Gandino, che promuovono un'iniziativa articolata, tesa a lanciare con forza il messaggio di speranza e solidarietà. La fiaccola ufficiale delle Olimpiadi 2018 verrà presentata al Montepora domenica 14 gennaio dalle 10 alle 16 in uno stand dedicato presso il Rifugio Pian del Termen al Montepora, occasione con cui verrà inaugurata la Ski Week targata Sciclub Radici Group. La Torcia Olimpica resterà al Montepora anche sabato 20 e domenica 21 gennaio, sempre dalle 10 alle 16. Giovedì 25 gennaio la Torcia Olimpica proderà in Val Gandino, dove attraverserà i centri abitati di Peia, Leffe, Casnigo, Cazzano a Sant'Andrea e Gandino, grazie a decine di tedofori locali e rappresentanti del mondo sportivo locale. Il ritrovo è a Peia ed è fissato alle ore 16, dove la Torcia sosterà fino alle ore 16.30, procedendo poi verso gli altri centri, dove pure saranno allestiti i momenti di sosta. Il momento conclusivo dell'iniziativa è in programma giovedì 25 gennaio alle ore 21 al Cinema Teatro Loverini di Gandino, dove la Torcia Olimpica sarà portata da Giorgio Scuri. Con lui sul palco ci saranno anche Sara Canali, medaglie di bronzo nel basket alle Olimpiadi Sordi 2017, disputate in Turchia, Luca Carrara, attrita paralimpico nello sci alpino, e Mauro Bernardi, maestro di sci in carrozzina. E a proposito di sport, a Schilpario, domenica 14 gennaio, è in programma la prima edizione del Trofeo Tecnoscalve, gara del campionato provinciale di sci alpino del CSI, iniziativa promossa dal gruppo alpino di Colere e dall'associazione turistica Schilpario. Si tratta della prima prova del campionato provinciale CSI, organizziamo uno slano speciale, è intitolato a una ditta di Schilpario, si chiama la Tecnoscalve, quindi è il primo trofeo Tecnoscalve. Ci puoi ricordare un po' come è organizzata la giornata? Allora, il ritrovo, tra le 8 e le 9 c'è la ricognizione della pista, alle 9 e un quarto avrà avvio la gara, e all'inizio partono le categorie dei più grandi, il circuito CSI la chiama la pista B, è terminato quello e iniziano i piccoli sul percorso della pista A, con il palo basso, mentre la pista B è su palo alto, con un tracciato normale. La neve c'è e le condizioni sono buone? La neve è poca, però le condizioni sono ottimali, quindi l'abbiamo provata nei giorni scorsi, dopo che è tornato il freddo, e ci garantisce in modo sufficiente la regolarità della manifestazione. E ora continuiamo con la rubrica Erbe e Salute. Buonasera a tutti, questa sera vorrei parlarvi di aromaterapia. Aromaterapia sta ad indicare la scienza che va ad utilizzare gli oli essenziali per curare piccole patologie. Olio essenziale lo dice la parola, è il nome comune, anche se qualche volta vengono definiti anche come oli volatili, per dire delle sostanze, per attribuire a delle sostanze che sono presenti nelle piante in piccola quantità, ma sono un'essenza molto ristretta, molto particolare. Cosa significa? Che se io ho una sostanza che devo ricavare da una pianta e in questa pianta ce n'è una piccolissima quantità, quindi una cosa essenziale, praticamente avrò sempre un prodotto molto costoso perché serve una quantità elevata di materia prima per ricavare poche gocce di olio essenziale. Gli oli essenziali sono numerevolissimi perché abbiamo da quelli balsamici a quelli agrumati, ma la cosa più importante da ricordare è che nonostante siano molti gli oli essenziali, si ricavano quasi esclusivamente da pochi gruppi di piante. Ricordate per esempio il gruppo delle piante delle mirtacee, dove troviamo gli oli essenziali come l'eucalipto per esempio e la salvia, oppure abbiamo quelli delle labiate, oppure abbiamo quelli delle piante agrumate. sono pochi gruppi di piante, soprattutto labiate cupressacee e mirtacee. Allora, gli oli essenziali vengono ricavati nell'industria tramite due metodi per far sì che mantengano la loro purezza e la loro integrità. Vengono utilizzati soprattutto un metodo di corrente di vapore con distillazione e un metodo di pressa a freddo, di pressurizzazione a freddo. Allora, abbiamo praticamente il metodo di distillazione. Funziona in questa maniera. La parte della pianta che deve essere utilizzata viene sminuzzata, messa in un alambicco nel quale viene fatta passare dell'acqua calda. La corrente di vapore che passa sopra la pianta è in grado di catturare questi oli volatili e trasportandoli verso una serpentina dell'alambicco dove viene raffreddata praticamente l'olio si condensa e quindi viene raccolto. Invece il metodo per pressatura si fa a freddo per evitare proprio di eliminare e perdere il poco olio essenziale. In questo caso la parte della pianta che solitamente viene utilizzata fresca, alla pianta sminuzzata, anche in questo caso però viene aggiunta acqua fredda e con delle grosse presse viene schiacciato il principio attivo e poi viene ricavato, si raccoglie l'olio. Sono i due metodi migliori per far sì di cercare di ricavare principio attivo in maniera più naturale possibile. Ricordatevi che gli oli essenziali non sono nocivi quindi non hanno effetti collaterali ma possono avere controindicazioni per la pelle o per alcuni farmaci che utilizzate. Quindi fatevi sempre consigliare la miscela adeguata dal vostro medico o dal vostro farmacista di fiducia. Arrivederci e buona serata. Ci fermiamo per una pausa tra poco. Terza ed ultima parte delle telegiornali di Antenna 2. Ora continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera sul canale 88 alle 20.30 trasmetteremo il settimanale di approfondimento Target. Ecco la scaletta. Con il primo servizio andremo a Son Gavazzo per una mostra su Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo II dedicata a Don Lorenzo Cortinovis. Poi a Prada Lunga per parlarvi della residenza leggera per gli anziani. Torneremo a Son Gavazzo per la serata in cui sono stati conferiti i premi nell'ambito del concorso letterario Don Lorenzo Cortinovis e con il concerto per l'Epifania. Racconteremo le vicende collegate agli studi sull'Uranio in Alta Valle Seriana e infine vi parleremo di una canzone nata ad Albino e inserita in un film sul presidente Pertini. Continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera alle 22.15 trasmetteremo la rubrica Italia Economia alle 22.30 la seconda edizione del nostro telegiornale alle 23.30 Decoder e alla mezzanotte e mezzo la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale tornerà in onda anche alle ore 21.30 sul canale al numero 218 del Digitale Terrestre sul quale alle 22.10 trasmetteremo Target ed il servizio dedicato alla canzone nata ad Albino e inserita nel film dedicato al presidente Pertini. Sul canale sportivo alle 20.30 la rubrica di sport invernali Ski Magazine alle 22.30 il programma di motori Paddock. Eccola al Manacco per domani sabato 13 gennaio il sole sorge alle 7.53 e tramonta alle 17.04 il culmine è alle ore 12.29 la durata del giorno è di 9 ore e 11 minuti la luna sorge alle 4.42 e tramonta alle 14.27 la fase lunare la luna è calante ed è visibile al 24% la chiesa ricorda Sant'Ilario ecco anche le previsioni del tempo il cielo sabato sarà sereno su tutti i settori della nostra regione e temperature saranno stazionarie e con questo è tutto grazie per la vostra attenzione e buona serata grazie per la visione